Francesco Cirio nasce a Nizza a Monferrato il 25 dicembre 1836. Il padre è un piccolo commerciante di granaglie. Influenzato dall'ambiente agricolo e con notevoli capacità imprenditoriali, Francesco lavora al mercato ortofrutticolo di Portapalazzo già dall'età di 14 anni, diventando presto esportatore di prodotti freschi verso Londra e Parigi. Nel 1856, a soli 20 anni, sfruttando un'invenzione francese, sviluppa la tecnica conserviera, dando il via ad un business globale. Il primo stabilimento è a Torino e in piazza della Repubblica, il numero 24, una targa bronze è posta sulla casa dove visse, dopo l'unità d'Italia per i stabilimenti produttivi in sud Italia, curando personalmente il recupero di vaste aree e di terreni agricoli abbandonati. Alla sua morte, il 9 gennaio 1900, l'azienda Cirio, Società Generale delle Conserve Alimentari, era uno dei più grandi e prestigiosi produttori di prodotti alimentari in Europa.